Teatronieri di Pontamoriano slittano i tempi del restauro. I lavori all'edificio hanno infatti subito un rallentamento a causa di alcuni problemi al tetto e adesso bisognerà aspettare la bella stagione per la sesura della nuova impermeabilizzazione. Da quel momento, secondo il cronoprogramma aggiornato dal Comune, riprenderanno anche i lavori interni alla struttura, che dovrebbero concludersi in circa quattro mesi e che prevedono in biancature migliorie in merito alla fruibilità dello spazio e interventi sull'impianto di riscaldamento. Quasi terminati invece i lavori esterni alle facciate e alle gronde per il ripristino dei colori originali dell'architettura realizzata nel 1930. I costi dell'intero cantiere, a causa dei rincari delle materie prime, sono passati da 562.000 euro a 884.000 euro.